C'è anche Villa Cattani Steward fra i 35 tesori nascosti delle Marche svelati dalle giornate FAI d'autunno nel weekend appena trascorso e che si apriranno alle visite degli iscritti FAI anche sabato 24 e domenica 25 ottobre. La splendida villa sicentesca sulle colline di Trebbiantico ora aumenta ulteriormente il suo fascino grazie al completamento dell'opera di restauro degli affreschi di Niccolò Berrettoni. Un complesso lavoro di restauro iniziato un anno fa poi interrotto dalla pandemia e ora finalmente completato grazie al lavoro di Michele Papi dell'atelier di restauro Il compasso di Urbino. Questa giornata presenteremo il restauro di due affreschi che abbiamo fatto qui a Villa Catani Steward dell'autore Niccolò Berrettoni, due belli interventi, due bei recuperi di dipinti notevoli anche per fattura e per tecnica esecutiva da parte dello stesso pittore, pittore conterraneo nostro perché è un pittore che viene da Macerata Feltria e che ha eseguito queste pitture con molta determinatezza e molta grazia. È stato un recupero importante, un recupero perché erano molto molto rovinati, molto distaccati dal supporto murario, avevano vari problemi e tant'è che l'intervento di restauro ha durato diversi mesi, ci sono voluti diversi mesi per poter recuperare e riportare diciamo così anche se impropriamente all'antico splendore gli affreschi che poi oggi ammiriamo.